Un modello su cui si può costruire è un reale sistema di incrocio domande e offerte in cui la formazione non è finalizzata a se stessa ma è finalizzata all'inserimento lavorativo e il gruppo Autogrill nella fattispecie ha una proposta progettuale con un percorso di inserimento anche a medio termine di un gruppo di giovani ma non solo quest'anno ma l'obiettivo è quello di replicarlo periodicamente o annualmente in modo da diventare un modello stabile di formazione di talenti Questa è una bella iniziativa che dedichiamo alla Sicilia per tanti motivi Innanzitutto perché in Sicilia siamo ben presenti, abbiamo più di 250 persone che lavorano sull'isola in diversi punti vendita tra cui una presenza molto importante sulla ristorazione dell'aeroporto Abbiamo diversi progetti anche di ulteriore, un'ipotesi di ulteriore investimento di aperture ulteriori soprattutto nell'ambito dell'aeroporto in base alle possibilità che ci potranno essere e quindi è un'ottima occasione anche di conoscere anche le realtà sul territorio Siamo alla seconda edizione dell'avviso 33 che ha completamente e radicalmente modificato l'approccio regionale al sistema della formazione Nel senso che chiamiamo le imprese insieme agli enti di formazione ad essere protagonisti e propositori dei progetti formativi che guardano quindi alle prospettive di sviluppo dell'impresa e al turnover occupazionale dell'impresa Al termine di questo percorso professionale teorico pratico le imprese sono chiamate ad assumere almeno il 25-30% dei ragazzi che si sono formati Quindi già da due anni quasi la regione ha completamente modificato un processo che era quello tradizionale che non aveva portato a un effettivo collegamento tra il mondo dell'impresa e il mondo della formazione professionale Mentre invece adesso lavoriamo appaiati e tanti grandi players nazionali del mondo produttivo hanno aderito a quell'avviso 33